La situazione che mi immagino tra 20 anni rispetto alla siccità e all'acqua credo sia migliore di quella attuale proprio perché ci sono un sacco di progetti che coinvolgono i giovani. Potremmo davvero lasciare il segno e cambiare le cose. Il futuro è Junior. Mi chiamo Antonio, ho 18 anni e il mio progetto si chiama ISG. È un impianto di irrigazione intelligente e di raccolta dell'acqua piovane. Raccogliamo l'acqua piovane che se non andasse raccolta andrebbe persa e la utilizziamo tramite un impianto di irrigazione intelligente che è comandato da una centralina e tiene conto dei parametri del terreno al fine di migliorare l'espulsione. Quando ero bambino avevo un fortissimo rapporto con l'attività di famiglia che è quella dell'impiantistica generale. Inconsciamente sapevo e volevo che una volta terminato gli studi fosse quello il mio futuro. Oggi sogno di continuare l'attività di mio padre portandola verso nuovi orizzonti grazie anche e soprattutto agli strumenti che Junior Achievement ci ha insegnato. Tra la mia generazione e le generazioni passate sicuramente c'è una grande differenza ma proprio perché le generazioni passate non sono state sottoposte a degli stimoli rispetto al cambiamento climatico, problematiche ambientali che noi invece riceviamo grazie a programmi come quello di impresinazione. Credo che il futuro sia Junior proprio perché vede il futuro camminare sulle gambe e sulle spalle dei ragazzi. Grazie a tutti!